Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video! Oggi ho deciso di parlarvi dei 5 libri che mi hanno cambiato la vita. So che questo genere di video vi piace sempre perché trovate tanti spunti per delle letture che potrebbero cambiare anche la vostra di vita. In realtà colgo l'occasione di questo video anche per parlarvi di un bellissimo progetto. Mi è stato chiesto di presentarvelo e sono felicissima di potervene parlare perché è un progetto che ritengo molto importante e soprattutto molto molto bello. Ma di questo parleremo dopo. Prima, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirò un mio nuovo video. E se non lo fate già seguitemi anche su Instagram, io sono Martina Tazza. Cominciamo con i primi libri. Il primo libro di cui vi parlo è Uccelli di Robo. Ora, io non so perché non è nella mia libreria questo libro meraviglioso. Spero che sia nella libreria della mia mamma, visto che il libro era il suo. Questo libro mi ha cambiato la vita perché è stata una lettura veramente molto intensa per me. Probabilmente il primo libro per adulti, forse, che ho letto. Quello che ha segnato un po' la separazione tra l'essere una ragazzina e l'essere una lettrice adulta. L'ho letto con il mio club del libro e, anzi, vi dirò che l'avevo cominciato molto tempo prima, ma forse era troppo giovane all'epoca e quindi avevo interrotto la lettura. Per fortuna è arrivato il club del libro, era una lettura chiaramente condivisa, e quindi ho avuto l'opportunità di riprenderlo in mano e leggerlo. Da quel momento mi sono resa conto che potevo amare immensamente anche libri dove sì, c'è azione, ma molta meno rispetto a quelli che avevo letto fino a quel momento e dove avevano ampio spazio le descrizioni. Io mi sono sentita talmente immersa nella storia, in quei paesaggi, nelle situazioni che venivano raccontate, che mi sembrava di sentirle sulla mia pelle ed è un po' la stessa sensazione che ho avuto leggendo Via col vento. È stato probabilmente il libro più bello che io abbia mai letto, una storia meravigliosa, una storia che mi ha fatto riflettere, mi ha fatto fare delle domande, mi ha fatto ragionare anche su argomenti che di solito si darebbero per scontati e che invece bisogna analizzare sotto diverse sfaccettature. Chiaramente tutto questo è stato possibile grazie alla scrittura dell'autrice e quindi direi che questo libro ha segnato la mia vita da lettrice. Il secondo libro di cui vi parlo me l'avete sentito nominare diverse volte ed è Big Magic di Elizabeth Gilbert. Lei è l'autrice di Mangia Pregama e già quel libro ha avuto un certo effetto su di me, però devo dire che con Big Magic mi sono proprio sentita completamente diversa. Mentre in Mangia Pregama l'autrice parla della sua storia personale, è quasi un'autobiografia direi, comunque racconta della sua esperienza, ad un viaggio lunghissimo che ha fatto per curare delle ferite profonde che stava vivendo, che aveva lei. Questo libro invece è un'altra cosa, è proprio un manuale dedicato a noi lettori. Di che cosa si parla? Si parla della possibilità di vivere una vita creativa indipendentemente da tutti quegli ostacoli, da tutte quelle paure che ci frenano ogni volta. Molto spesso siamo bloccati nell'inseguire le nostre passioni perché pensiamo di non sfondare mai, quindi di non diventare mai famosi, di non diventare mai ricchi grazie a queste passioni. Ecco, in questo libro Elizabeth Gilbert ci dice che non è così, non deve per forza essere così e che anzi inserire le nostre passioni nella quotidianità è tutto ciò che rende la vita degna di essere vissuta. E lo fa in una maniera accattivante, coinvolgente, a tratte simpatica, piena di aneddoti interessanti. Insomma, un libro che mentre lo stavo leggendo io desideravo non finisse mai perché io mi sentivo bene mentre lo leggevo, mi dava una carica, una forza incredibili e quindi speravo durasse per sempre. In realtà l'effetto di questo libro è durato perché ho veramente cambiato la mia vita e ho iniziato a capire quali fossero le cose da eliminare e quali invece quelle da tenere perché realmente importanti. Addirittura mi sono ispirata alla lettura di questo libro per la creazione del mio primo corso di crescita personale che trovate ancora sul mio sito www.martinabelli.it perché appunto mi aveva talmente ispirata e ha talmente davvero cambiato la mia vita che ho sentito l'esigenza anche di condividerlo con voi. Quindi insomma tutto questo per dirvi di leggere questa autrice assolutamente. Se non sapete da dove iniziare, prendete questo. È arrivato il momento di fare una pausa. Prima di proseguire con gli altri tre titoli che mi hanno cambiato la vita, vi parlo di questo progetto che appunto vi ho presentato un pochino all'inizio. Sto parlando di questo. Ovviamente voi non vedete assolutamente niente ma qui dentro ci sono due magnifici segnalibri. Ebbene sì, mi hanno contattato da un sito internet che vende segnalibri di stoffa. Ovviamente sapevano che avrebbero toccato delle corde sensibili perché se parliamo di segnalibri io non avrei mai potuto resistere e quindi ecco qui i due segnalibri che mi sono stati inviati. Ma la cosa bella che c'è dietro a questi segnalibri non è tanto il loro utilizzo quanto come sono stati fatti e la loro storia. I segnalibri sono fatti di poliestere riciclato e sono certificati come ecosostenibili. Vengono realizzati con un telaio, quindi sono proprio dei veri segnalibri di tessuto. Ma sono molto particolari perché sono stati creati in modo da essere molto sottili e leggeri, in modo da poter essere inseriti all'interno delle pagine di un libro senza che questo si rovini in alcun modo. Inoltre sono resistenti, quindi sono fatti per durare. Addirittura sul loro sito c'è proprio scritto che sono fatti per essere tramandati di generazione in generazione. E inoltre sono lavabili, quindi sono davvero dei segnalibri ecosostenibili ma soprattutto unici, qualcosa che probabilmente in casa davvero non abbiamo. Ma andiamo a vedere la storia che c'è dietro a questi segnalibri. L'idea è nata nel 2019 e diciamo che i creatori di questi segnalibri volevano creare degli oggetti che fossero destinati ai classici topi da biblioteca, quindi amanti della lettura. Quindi perché non iniziare per l'appunto con dei segnalibri? Il fatto è che con l'acquisto di questi segnalibri è possibile sostenere dei bellissimi progetti. Infatti loro devolvono una parte dell'incasso alle associazioni che si occupano dei rifugiati, in particolare quelle che cercano di garantire l'accesso all'educazione e alla cultura di tutti appunto i rifugiati che arrivano da altri paesi e che atterrono in Grecia perché questo progetto è totalmente greco. Infatti il loro obiettivo è quello di permettere a tutti di entrare nel mondo della letteratura indipendentemente dallo stato sociale, la lingua e il background che c'è dietro a queste persone. Per quanto riguarda i rifugiati, l'associazione che viene appoggiata dai creatori di segnalibri si chiama Eco Refugee Library, quindi si occupa per l'appunto, come vi ho detto, di permettere ai rifugiati di avere l'accesso ad una piattaforma multimediale che permetta loro di studiare, imparare e leggere. Sostengono anche la libreria We Need Books che invece si preoccupa di avere nella sua collezione di libri tanti libri in lingue straniere, quindi cercano di rendere veramente la letteratura alla portata di tutti. Ecco perché ho deciso di sostenere questo progetto, di presentarvelo, di parlarvene perché credo che sia veramente ben pensato, nel senso che oltre a darci qualcosa di bello come può essere un segnalibro, anche noi diamo qualcosa di bello a tante persone che normalmente non avrebbero accesso ai libri e alla letteratura. Quindi vi invito ad andare sul loro sito che si chiama Bucla, vi lascio chiaramente il link sia qui sotto che nell'info box e andate un po' a sbirciare, soprattutto perché ogni disegno presente sui vari segnalibri di stoffa è ispirato al mondo della letteratura. Nel mio caso io ho scelto quest'orso polare che si ispira alla trilogia della bussola d'oro noi la conosciamo così, la bussola d'oro è il primo volume e le tazze da te che ovviamente si ispira alla storia di Alice nel Paese delle Meraviglie. Prima di concludere quindi vi dico anche che c'è un codice sconto per voi per avere il 10% di sconto sull'acquisto dei segnalibri, il codice è BUCLAFALL vi lascio tutte le informazioni nell'info box, sia il sito, la loro pagina Instagram, il codice sconto e fino a quando sarà valido in modo che possiate andare a sbirciare sul loro sito e scegliere il segnalibro perfetto per voi. Adesso direi di andare avanti con gli ultimi tre libri che mi hanno cambiato la vita. Ecco qua il terzo libro che mi ha veramente cambiato la vita Tu, l'universo e il denaro. Non fatevi ingannare dal titolo, potrebbe sembrare che in questo libro si parli solo di soldi però anche se a tutti fanno comodo, fa comodo qualche soldino in più in realtà per oltre la metà del libro si parla della legge e dell'attrazione in generale quindi a 360 gradi analizzando ogni aspetto della nostra vita. Questo libro io l'ho comprato su Amazon, oltretutto vedete che è un'edizione un po' particolare credo che addirittura venga stampato da Amazon direttamente quando facciamo l'ordine ma io l'ho letto in ebook, l'ho comprato e l'ho fatto comprare anche alla mia mamma è pieno di annotazioni, di frasi sottolineate perché ho trovato tanta di quella ispirazione che volevo tenerlo sempre a portata di mano per poter riprendere quelle frasi che mi servivano in un determinato momento della mia vita. Come vi ho detto qui quindi si parla della legge dell'attrazione ed è stato un po' il primo approccio che io ho avuto con questa legge che mi ha veramente aperto gli occhi perché si trovano tante letture sulla legge dell'attrazione però ripetono un po' tutte le stesse cose. Questo invece è un'analisi molto più profonda e anche questo è un libro di quelli che riesce a darci una carica pazzesca perché ci fa capire che noi siamo pieni di potenzialità, pieni ma negli anni ce ne scordiamo e quindi crediamo di essere mediocri, banali e di non poter mai emergere in nessun caso e di non poter soprattutto mai aspirare a qualcosa di meglio. Questo libro ci insegna tutto l'opposto ci fa capire quanto siamo forti quanto abbiamo il diritto di essere felici di ricercare questa felicità e di ricercare la vita che è nei nostri sogni e ci insegna come fare. Insomma potrei parlare di questo libro per ore anche ora mentre preparavo il video rileggevo qualche frase e già mi sentivo ricaricata quindi è un consiglio che do a tutti date una chance a questo libro perché è quel motivatore che vorreste avere sempre accanto a voi ogni giorno della vostra vita. Il quarto libro che ha salvato la mia vita è Cambiare l'acqua ai fiori anche questo non ce l'ho qui con me perché ce l'ha la mia mamma un giorno glielo ruberò, ve lo prometto comunque diciamo che questo libro l'ho letto in un periodo particolare della mia vita come dico sempre ogni volta che ne parlo perché l'ho letto quando ero in ospedale quindi alla fine di febbraio, inizio marzo ho avuto un'operazione al cuore e sono stata diversi giorni all'ospedale e ho letto questo libro quindi magari sì stavo anche vivendo una situazione un po' fuori dalla norma fatto sta che io credo che quel libro sia capitato proprio nel momento giusto cioè quando io avevo bisogno di un reale cambiamento infatti quando sono tornata a casa sono dovuta stare per un paio di settimane praticamente ferma in casa senza far nulla e mi sono resa conto che io ero spaventata dall'idea di tornare in salute quindi tornare insomma nel pieno delle mie forze e riprendere la vita di tutti i giorni perché ero piena di impegni di cose da fare, scadenze mi sentivo sopraffatta invece durante quel periodo di malattia tra virgolette comunque di convalescenza ecco chiamamolo così io stavo veramente bene perché non avevo pensieri e allora mi sono detta ma è giusto che io viva con il terrore di riprendere la vita di tutti i giorni invece di non veder l'ora di ricominciare a vivere la mia vita ecco la spinta me l'ha data proprio cambiare l'acqua ai fiori perché la protagonista di questo libro ha una vita lenta quella che oggi si chiama slow living quindi lei vive una vita con il ritmo della natura quindi rispettando la natura rispettando i suoi tempi senza fretta ma allo stesso tempo senza farsi mancare niente e senza togliere significato alle sue giornate io mi ricordo che mentre lo leggevo sognavo di avere la vita di questa donna nonostante le varie tribolazioni del personaggio ma la sua pace interiore nel momento in cui aveva rimesso a posto la sua vita ed aveva capito come viverla in una maniera lenta quindi era una persona che aveva la vita piena di persone belle intorno a sé persone che la arricchivano ma allo stesso tempo era capace di non avere fretta perché purtroppo è una cosa con la quale ho dovuto combattere sempre da tutta la vita cioè la fretta di finire perché ci sono sempre troppe cose da fare quindi io dico sempre che questo libro mi ha cambiato la vita perché è stato proprio così mi ha fatto conoscere una storia che mi ha emozionata il libro è automaticamente entrato nella lista dei libri più belli mai letti e soprattutto mi ha fatto capire che desideravo uno stile di vita diverso e da quel momento il mio stile di vita è davvero cambiato infine l'ultimo libro che mi ha cambiato la vita è Viaggi tra sogni di carta il mio primo romanzo questo non è stato diciamo determinante dal punto di vista della storia perché ovviamente l'ho inventata io questo è stato proprio il semplice fatto di averlo pubblicato a cambiarmi la vita nel senso che questa è stata la realizzazione di un progetto che durava anni e di un sogno che avevo fin da quando ero bambina ma proprio bambina io credo che alle medie io ho capito di voler fare la scrittrice e quindi insomma per me è stata una gioia enorme e rileggerlo o guardarlo nella mia libreria ne ho alcune copie chiaramente che tengo proprio in bella vista mi ricorda ogni volta le mie capacità mi ricorda che ce la posso fare che se lo desidero davvero i sogni si realizzano quindi spero che anche voi leggendo il mio romanzo possiate non soltanto immergervi in una bella storia ma vi possiate anche ricordare che avete tra le mani il romanzo di una ragazza semplice come voi che non ha costi che non ha un canale youtube da un milione di iscritti che si trascina dietro con tratti con le case editrici e che comunque ci credeva talmente tanto da riuscire a realizzare il suo sogno bene ragazzi il video finisce qui spero che vi sia piaciuto per me è stato bellissimo mi emoziono sempre quando parlo di libri che mi hanno emozionata tanto a loro volta quindi fatemi sapere quali sono i libri più belli della vostra vita e soprattutto se deciderete di acquistare alcuni disegnalibri che vi ho mostrato mandatemi qualche foto su instagram perché sono curiosa di vedere qual è l'immagine letteraria che ha fatto per voi che più vi ha vi ha attratti e vi ha ispirati e niente noi ci vediamo prestissimo in un altro video ciao e la storia che c'è dietro dietro ma la cosa bella di questi segnalibri non è tanto il loro utilizzo quanto ma che succede ora utilizzo utilizzo e come sono stati realizzati e madonna è da ridere porca vacca hai fatto troppo ridere te io è sempre colpa mia cioè basta ma io è caldo ma sientati